Iniziamo questa rubrica di consigli di lettura di libri a tematica ambientale col botto. Il libro L'Avvocato dell'Atomo è assolutamente obbligatorio da leggere per chi come me ha un passato da ambientalismo un po' ideologico, da chi come me crede che il nucleare non sia assolutamente ecologico. Ho fatto molta fatica a finire di leggere questo libro, ma veramente tanta fatica, un po' perché Luca Romano non è esattamente accogliente, ha un approccio un po' aggressivo diciamo nei confronti di non tanto del lettore ma di chi è, non la pensa come lui, però sicuramente una serie di punti che tratta all'interno del libro sono interessanti. Il libro è strutturato con capi d'accusa verso il nucleare e arringhe di difesa. La prima parte è assolutamente interessante per chi appunto come me aveva tutta una serie di convinzioni però non mai studiate, per cui le scorie radiattive non sono questo insormontabile problema e non sono così tante. I disastri nucleari, cernobi alla parte, non sono stati così gravi come normalmente si pensa. Un'altra cosa sulla quale mi ha fatto riflettere il libro è che per poter sfruttare sole, acqua, vento eccetera occorre creare degli impianti e che la creazione di questi impianti e la loro dismissione è piuttosto impegnativa, non è a impatto zero. La seconda parte invece è un bel po' più ostica e anche un po' più discutibile, soprattutto quella che tratta dei costi e dei tempi di realizzazione. Siccome non amo chi ha la verità in tasca e le verità assolute ma mi piace continuamente rimettermi in discussione, ho letto questo libro, però se leggete questo libro mi dovete promettere anche che leggerete Populismo nucleare che distribuisce gratuitamente altre economie, che arriva a delle conclusioni diametralmente opposte. Per cui vi consiglio entrambe le letture, ma non solo, queste sono solo due delle letture che si potrebbero fare sul nucleare e farvi sempre sempre tantissime domande. Grazie a tutti.